Sono 44 i casi di positività al virus covid-19 riscontrati nelle scuole Umbre a due settimane dalla ripresa delle lezioni, tre i cluster, mentre 1.009 risultano i contatti stretti di classe in isolamento, 41 le classi in isolamento, con una concentrazione a Perugia, 12, 11 ad Assisi, 5 a Terni, quindi 4 nella media valle del Tevere e 3 a Foligno, così come a Orvieto. Tornando ai casi di positività riscontrati tra gli alunni, 13 risultano nelle scuole primarie, 7 nelle scuole secondarie di primo grado e 12 nelle scuole secondarie di secondo grado. Gli alunni in isolamento risultano 260 nelle scuole primarie e poi a seguire 229 nelle scuole secondarie di primo grado e 384 in quelle di secondo grado.